Da quando ho visto per caso in un gruppo di noi estetiste, ho visto appunto il tuo slash Torniamo Presto, mi sono incuriosita e sono andata subito a vedere e ho detto, ci provo. E quindi così è stato e insomma subito mi sono provata a mettere lì, a creare un messaggio con anche io le liste broadcast, con tutti i numeri registrati che ho sul telefono delle mie clienti e devo dire che insomma hanno risposto piacevolmente bene, ecco perché insomma non mille però insomma chi ha voluto, ovviamente tutti i miei clienti che hanno voluto aderire insomma hanno speso dei bei soldi, intanto hanno detto prima o poi torneremo e noi così abbiamo già messo il nostro gruzzoletto nella tua attività, quindi insomma per me è stata una bella boccata d'ossigeno.